Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Tom Clancy's Rainbow Vegas 2 Lo so, il nome è abbastanza lungo Questo qui è il secondo episodio Come promesso ne sto facendo altri E niente, questo qui è una nuova partita Sempre come nello scorso episodio In scontro in Xbox Live E niente, siamo qui Deathmatch a squadra Se volete giocare con me o mio fratello Mandateci la richiesta d'amicizia Il nostro gamertag è patjar2013 Stavo per morire, sto per morire C'è uno scontro di granate Non ho detto che morivo E niente, sono qui di nuovo da solo In personal Con sempre mio fratello alle spalle Che vi saluta tutti Non siete i numerosi però Per quei pochi che siete Stavo vincendo di nuovo come prima Stavo vincendo di nuovo come prima Vabbè, non come prima Dieci a cinque Non è mica tanto come prima Non è mica tanto come prima E' un po' 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 Don Mi uccido tutto Faccio una strage Sono pene Ceci Oh, mamma No, stavo pensando a quel mongolo laggiù, vabbè, stiamo di nuovo perdendo, di nuovo, stiamo pari, ringrazio molto il mio compagno di squadra che mi ha salvato, basta, vinciti tutti di morire. Ecco, devo morire io. Gravato. Dov'è la porta? No, l'ho buttato qui. Dov'è? Non è lì, allora sarà lì, tua madre. No, è io che non ci ho pensato, vabbè adesso cambio arma, però non cambio niente. Devo morire. No, è tu che. No. No. . 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 si deve sapere cosa, eh, no, AK-47, eccolo qua, AK-47, prendiamo un mirino da 6, ecco qua, non l'ho usato, vedo già che c'è 31 colpi, cioè proiettili e questa cosa non mi piace, però è abbastanza potente io se, era dietro di me, non ho avuto modo di provarla AK-47, a ver, adesso lo provo, perché non è finita, no, cosa, no, madre, no, sono l'uno o l'altro, mancano 4 minuti adesso però a 10 minuti non ci ho pensato ah, si è accorto anche lui che non eravamo compagni di squadra siamo a 62 per noi, a 63 per noi a 61 vediamo se stavolta riusciamo a far qualcosina tua madre ma proprio stanno lì raggruppati, adesso faccio tutto il giro, voglio vedere se non faccio il tempo di tre mamma santa vabbè, vi bombardo tutti adesso ovviamente sto scherzando che pizza ora ragazzi con salomino piccante, peperoni, cipolla mamma santa vabbè, ragazzi, siccome include con un'altra mia morte questa volta, questo video lo faccio più corto, cioè non finisco a pretta perché tanto adesso esco e niente, ricordatevi che potete mettere mi piace se vi iscrivete anche ci fa molto piacere e niente, commentate se vi è piaciuto questo video se avete consigli o se volete giocare con noi vabbè, ciao a tutti ragazzi grazie 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 grazie